Verso radio alle mascherine, anche negli ospedali e nelle RSA. Potrebbe essere infatti il 30 aprile l'ultimo giorno in cui si potrà accedere alle strutture sanitarie soltanto con un dispositivo di protezione sul volto. Grazie a tutti. Il dispositivo di protezione anti-covid, diventato ormai il simbolo della pandemia, potrebbe invece restare obbligatorio nei reparti con pazienti fragili e in quelli di cure intensive. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.